In questo anno e mezzo è stato un lavoro entusiasmante, ricchissimo dal punto di vista intellettuale, ma anche spirituale. Siamo diventati amici, siamo partiti lontani e diversi, ci siamo trovati convergenti e fraterni. Avevamo un'agenda dei lavori che avevamo approvato l'uno e il 2 febbraio scorso, molto complessa, come vedete ci eravamo dati 5 temi a cui dovranno corrispondere 5 documenti differenti. Il quinto documento, l'ultimo, la strategia, non l'abbiamo ancora composto perché non c'è stato tempo. Abbiamo prediletto di dedicare il tempo necessario per ciascuno dei temi per dipanare tutte le nostre divergenze, per approfondire e per cercare il più possibile di arrivare a una convergenza strategica. Devo dire che numerosi progressi sono stati fatti, personalmente mi sento di aver migliorato le mie idee sul mondo, di averle approfondite, di aver avuto anche delle acquisizioni, delle intuizioni interessanti che non avevo e mi mancavano prima. Quindi adesso andrò velocemente a presentare i primi 4 documenti che sono quelli che abbiamo costruito, mentre il quinto, come ho detto, non è ancora completo, è tutto da lavorare. Passiamo alla slide numero 2. Il metodo di lavoro che abbiamo adottato è stato quello che vedete proiettato nella slide. Ci siamo organizzati in questo modo, ogni nostra riunione che facevamo su un determinato argomento che ci eravamo dati funzionava in questo modo. Sceglievamo un relatore che poteva essere un esperto del campo disciplinare o anche uno di noi non necessariamente esperto ma che aveva qualcosa da dire. Lo ascoltavamo tutta la nostra riunione, dopo ne discutevamo sul tema e poi passavamo alla riunione successiva ad ascoltare un altro relatore. In questo modo il coordinatore prendeva appunti e alla fine doveva fare una sintesi di tutte le riflessioni che sono state fatte. Questa sintesi poi costituiva una bozza che veniva presentata all'interno del gruppo, il gruppo doveva discutere della bozza, venivano fuori altre idee e altre intuizioni, quando la bozza era approvata dal gruppo veniva presentata al comitato di coordinamento del centro di gravità, quindi presentata anche agli altri gruppi per una discussione. Questo è il metodo che abbiamo adottato. Passiamo pure all'altra slide, quindi andrò velocemente sugli argomenti che abbiamo trattato, ho presentato, ho organizzato il tema in questo modo, vedete c'è un riassunto breve dei contenuti del tema studiato con i punti di confronto sotto. I punti di confronto sono il riferimento ai punti in cui siamo stati divergenti su alcune posizioni e che hanno prodotto la maggiore discussione necessaria e su molti di questi punti siamo arrivati a una posizione comune, altri invece dobbiamo ancora lavorare. Sono documenti infatti ancora aperti ma in costruzione. Allora, vediamo il primo tema, era le contraddizioni generali del sistema di mercato e dei sistemi capitalisti, abbiamo individuato dopo lunghe discussioni che sono fondamentalmente tre le contraddizioni che distinguono i nostri sistemi economici, innanzitutto il classico conflitto tra proprietari dei mezzi della produzione e liberi prestatori d'opera che poco liberi sono, il conflitto poi tra i produttori stessi che sono in concorrenza tra di loro e la concorrenza porta nel tempo alla formazione di oligopoli internazionali che possono dominare sui governi singoli nazionali e un conflitto anche questo molto importante ma spesso dimenticato che abbiamo trovato, il conflitto tra diversi modelli di estrazione del valore. Cioè il classico modello di estrazione del valore capitalistico era quello marxiano che rispecchiava il modello MDM, quindi merce e denaro, quindi un investimento iniziale per la produzione di merci fisiche che dovevano essere rivendute sul mercato e produrre un denaro superiore alla quantità investita inizialmente. Questo era il modello classico industriale fisico che ancora rimane, che ancora esiste ma non è l'unico, si è venuto a scontrare, questo già con la crisi del 29 con un altro tipo di modello di estrazione del valore che è quello della finanza, denaro denaro, cioè estrarre valore dalla produzione del denaro, modello che è andato in crisi con il 29 e dopo la seconda guerra mondiale la gran parte delle merci era stata distrutta quindi si è potuti tornare al vecchio modello di estrazione precedente di valore fino agli anni 70, poi dagli anni 70 di nuovo i tassi di profitto scendevano, il mercato era saturo e quindi si è tornato a rifinanzializzazione dell'economia, ma punto di svolta che aggiungiamo in questa analisi, terzo elemento di estrazione del valore che abbiamo individuato oggi è quello verso cui probabilmente stiamo andando, una società dell'automazione dove il lavoro viene inautomatizzato e quindi il valore non si può più estrarre dal lavoro, ma da che cosa si estrae? Dal tessuto che innerva il corpo sociale, dal tessuto relazionale che innerva il corpo sociale, attraverso l'invenzione dell'internet, attraverso i big data che riempono l'internet, attraverso i software di intelligenza artificiale che sono costruiti e allenati questi algoritmi sui dati presenti sui computer e si sta automatizzando anche il settore terziario e quindi in un sistema di automazione della produzione dove il lavoro diventa non più necessario o dominante come fattore di estrazione, in una società diversa, una società feudale, neofeudale, dove la forma di estrazione deriva direttamente dal corpo sociale e dall'informazione in esso contenuto, come forma dominante. Le altre ovviamente restano, non è che non ci sarà più nessun lavoratore, non è che il meccanismo principale, iniziale di AMD è scompare, rimane ma non è più la forma dominante di estrazione del valore, cioè la gran parte dei profitti sono fatti in altro modo, altrove. E ora vado più veloce che se no così non finiamo. Il punto di confronto sono stati con il ruolo del primo dirigente, cioè abbiamo compreso che il marxismo aveva sbagliato nel prevedere che le frasse subalterne si sarebbero... Eh no, ma perché dopo ne ho di più. Il ruolo del primo dirigente, quindi le teste di ponte del capitale, quindi i grandi manager, non i proprietari, ma i manager o chi è amico della proprietà e vicino alla proprietà, alla fine ha interesse a seguire le direttive della proprietà e non ad associarsi con la mano d'opera subordinata. E quindi tagliando la testa di ponte alla classe operaia, la classe operaia non riesce a diventare rivoluzionare. Questo è un contributo di Gianfranco Lagrassa che ha partecipato al nostro gruppo con il suo contributo importante. E sulla finanzializzazione dell'economia non tutti erano d'accordo, c'è chi diceva che sì, la finanza c'è, esiste, è diventata più importante ma rimane sempre lo stesso meccanismo di estrazione del valore originario di AMD e alcuni che non erano d'accordo sul fatto che siamo di fronte a un nuovo metodo di estrazione del valore che è quello che vi ho raccontato prima dell'intelligenza artificiale e dell'automazione del lavoro. Questi punti si sono confrontati, su alcune cose siamo davanti convergenti, su altri alcuni sono rimasti distanti, ma è un processo che è normale che accada in un'organizzazione pluralista che non ha paura del confronto, quale noi siamo, dove ciascuno può portare qualsiasi sia la sua idea e verrà ascoltato senza pregiudizio. Andiamo alla slide successiva, si è addormentato anche il computer. Allora, tecnologia e ambiente. Allora, qui abbiamo raccontato, no scusa, questo è il tema numero tre, c'è il tema numero due. Allora, il tema numero due abbiamo tracciato un'evoluzione storica, cioè ci siamo domandati come siamo arrivati a questa situazione dove siamo adesso. Siamo partiti da Damedeva, abbiamo parlato velocemente della società medievale che poi è evoluta nella società liberal capitalista dei 800, ma poi soprattutto la parte più interessante è stata quella che ha considerato le ultime evoluzioni dal secondo dopoguerra ad oggi, dove abbiamo visto, come vi dicevo prima, che dagli anni 70 c'è stata una rottura rispetto al modello precedente, una rottura che è cominciata con Bretton Woods, che ha liberalizzato i capitali, la liberalizzazione del capitale da un lato ha portato alla finanziarizzazione dell'economia, alla delocalizzazione, alla globalizzazione e abbiamo visto le banche centrali privatizzarsi, il denaro privatizzarsi, grandi istituzioni internazionali nascono e sostituiscono i vecchi stati e abbiamo visto due cose importantissime su questo, che il capitalismo inizialmente aveva bisogno dello stato nazionale per formarsi, per strutturarsi, per rafforzarsi, per proteggersi e crescere, ma poi quando ha saturato il mercato interno è andato sui mercati internazionali e la nazione stessa è diventata obsoleta, al punto in cui siamo oggi dove esistono istituzioni internazionali di assoluta dubbia democraticità o controllo popolare su di esse che decidono per noi, dove i negoziati commerciali diventano la legge e non più, ammesso che ci sia mai stata la decisione da parte delle popolazioni, sull'autogoverno, su se stesse. I punti di confronto che abbiamo avuto su questo tema è stato fondamentalmente uno, quello sul determinismo storico, lineare o circolare, cioè ci siamo domandati se la storia avesse un corso deterministico, sia esso lineare di progresso o di regresso, sia esso circolare di continuo ritorno in qualche modo alle stesse fasi o se invece non avesse in qualche modo un ciclo deterministico, quindi qua ci sono divise le posizioni e abbiamo espresso diverse idee. Andiamo alla slide numero 3, no il tema numero 3, questo è stato un tema che ci ha portato via molto tempo perché avevamo posizioni veramente diverse su alcuni punti qua, abbiamo analizzato che rapporto c'è tra tecnologia e economia e soprattutto tra ambiente e economia, quindi il rapporto economia-tecnologia abbiamo analizzato di nuovo l'avvento dell'internet, i big data, l'intelligenza artificiale ma in particolar modo il transumanesimo, abbiamo mostrato che esiste un'agenda, l'agenda 2045 stilata in Russia dove questi soggetti sognano l'immortalità tecnologica, la connessione dell'uomo con la mente ma anche la manipolazione violenta della nostra natura biologica, di esseri umani e di ecosistema composto di animali, piante eccetera dove si è già fatta esperimentazione di modificazione genetica grave addirittura attraverso la produzione di vere e proprie chimere, è un articolo uscito su Cell a maggio del 2021, la prima chimera uomo scimmia e la prima chimera uomo maiale del gennaio sempre del 2021, prodotta e lasciata vivere nella pancia di una scrofa per 4 settimane fino a poi doverla uccidere per motivi etici perché a quanto pare si sono resi conto dopo 4 settimane che non era forse cosa troppo buona, comunque siamo a un punto di non ritorno vedete perché c'è una capacità di manipolazione della vita che è incomparabile rispetto a tutte le altre epoche da questo punto di vista, quindi abbiamo analizzato tutta la problematica relativa alla tecnologia, alle tecnoscienze eccetera e all'economia e poi siamo passati all'ambiente, sull'ambiente ci siamo dovuti scontrare e lavorare, confrontare per lungo tempo perché avevamo alcune volte idee proprio diverse, su una cosa abbiamo comunque concordato sul fatto che c'è una narrazione ambientalista falsa e la narrazione ambientalista falsa è la narrazione che ti dice che l'unico problema ambientale ed il principale problema ambientale è il riscaldamento climatico dovuto alla CO2, sappiamo che questa roba non è vera, abbiamo avuto professionisti che ce l'hanno spiegato, ci hanno portato le prove, abbiamo capito che l'anidride carbonica è il gas della vita, senza l'anidride carbonica le piante non potrebbero vivere, le alghe non potrebbero vivere, gli animali non sarebbero potuti nascere e abbiamo anche capito che c'è un progetto economico molto chiaro dietro questa campagna pseudo ambientalista sulle CO2, un progetto economico di rilancio del sistema economico anche attraverso queste nuove frontiere dell'ecologia, chiamiamola così, dove abbiamo visto che c'è un documento depositato alle Nazioni Unite che si chiama New Climate, qualcos'altro, adesso non mi ricordo esattamente ma si chiama New Climate Economy dove si prevede l'investimento di 95 trilioni di dollari nei prossimi 15 anni sul settore delle cosiddette tecnologie verdi e che cosa sarebbero queste tecnologie verdi? Lo stoccaggio e la cattura del carbonio, la bioenergia con cultura e stoccaggio del carbonio, di nuovo la decarbonizzazione totale rapida, i pagamenti per servizi ecosistemici, praticamente ogni azienda che vorrà produrre dovrà pagare questi servizi ecosistemici prodotti da queste aziende specialiste nella cattura del carbonio dall'atmosfera per poi piantarla sotto gli oceani del mare, come se questo potesse servire a qualcosa. Questo è il progetto che hanno in mente. E dall'altra parte tutta la narrazione ambientalista, tutta la narrazione ambientalista a partire dalla Greta Thunberg in giù, ignora completamente i veri problemi ambientali che ci sono, che è il problema dell'inquinamento, chissà come mai questi ambientalisti strillano tanto per qualche lattina di plastica per terra, per un po' di nitride carbonica, che ripeto è il gas della vita, e tra l'altro dato che ci siamo, Annibali cavalcò le Alpi perché non erano ghiacciate e c'erano due gradi e mezzo in più di oggi e non c'erano industrie a produrre nitride carbonica a quel tempo. E lo stesso è accaduto nel periodo caldo medievale. Comunque, ignorano completamente la narrazione ufficiale, tutto un altro aspetto, tutto un altro inquinamento dovuto alla geo-ingegneria, altro discorso tabù che in realtà non è tabù perché lo stesso IPCC la definisce direttamente, esiste la geo-ingegneria, ce la definisce l'IPCC, nessun gruppo ambientalista si è mai domandato di qual è stato l'effetto che hanno prodotto le 2418 detonazioni nucleari che sono state fatte come esperimenti lasciate nell'atmosfera. Noi viviamo in un'atmosfera da terza guerra mondiale, perché se fosse scoppiata la terza guerra mondiale, quante, ora vado alla conclusione, quante testate nucleari si sarebbero potute lanciare unione sovietica ai Stati Uniti, forse un migliaio a testa, bene, 2418 sono già state lanciate per i test nucleari e non c'è stato uno studio fino al 2007 a raccontarci quali sono stati gli effetti di queste bombe nucleari detonate nell'atmosfera e nessun ambientalista che abbia mai sollevato un dito, tutti zitti, stanno a guardare la pagliuzza, appunto come è scritto nel Vangelo, e non vedono la trave, si lamentano della lattina e non vedono 2400 testate nucleari sulle nostre teste, non vedono l'erorazione dei cieli, non si domandano dei programmi militari che esistono e di cui i documenti sono pubblicati per il controllo climatico, o in the weather 2025, possedere il clima entro il 2025, o il programma di Eisenhower del 1950, weather modification research national program, oppure l'esperimento Argus che ha fatto detonare tre bombe nucleari all'altezza delle fasce di Van Allen, il progetto Starfish del 1962 che ha fatto detonare altre due bombe nucleari sempre all'altezza delle fasce di Van Allen, nessuno si è mai domandato niente di questo, hanno tutti ignorato questo aspetto della geo-ingegneria, non si può parlare, ebbene noi ne abbiamo parlato. Punti di confronto, l'ultima cosa su questo discorso, la limitatezza delle risorse planetarie, qua ci siamo scontrati a lungo, c'erano alcuni di noi che dicevano c'è un problema ambientale che non passa solo per l'inquinamento, anche da geo-ingegneria, ma passa per la limitatezza delle risorse planetarie, cioè stiamo usufruendo, sfruttando più risorse di quelle che la natura riesce a riprodurre da sola. Un altro gruppo diceva, no non è vero, l'uomo ha sempre fatto progressi e non ci sono limiti alla produzione, quindi potenzialmente il pil può anche crescere all'infinito. E quindi giù a citare il club di Roma, e da una parte chi citava il club di Roma è quel limite dello sviluppo, dall'altra chi diceva, no quelli sono gruppi maltusiani per la depopolazione. Siamo arrivati a un punto, secondo me, veramente di valore, perché forse non abbiamo capito la verità, ma ci siamo avvicinati molti a capire una cosa, le risorse sono sempre limitate in relazione a una tecnologia di riferimento. Questa forse è il punto che risolve, cioè non sono limitate in assoluto, ma sono limitate rispetto a una tecnologia di riferimento. Esempio, gli uomini primitivi non conoscevano l'agricoltura, le loro risorse erano limitate alla raccolta, tutto quello che potevi raccogliere sugli alberi, tutto quello che potevi raccogliere di cacciagione in giro per la foresta. Ed erano limitate, ovviamente, ma quando si è scoperta l'agricoltura, la capacità produttiva è aumentata moltissimo e quindi il limite delle risorse massimamente consumabili si è alzato. E così un giorno se avremo la tecnologia di piegare lo spazio-tempo e viaggiare per le galassie potremo prendere le materie prime dai pianeti che sono disabitati, tanto per dire una cosa avanguardista. Quindi le risorse sono limitate, sì, ma rispetto a una tecnologia di riferimento. Quindi attenzione a quando ci dicono che stiamo consumando più delle risorse che ci sono, dobbiamo sempre domandarci ma stiamo consumando di più rispetto alle tecnologie disponibili o che cosa? Perché in assoluto non esiste, questa frase non ha senso e credo che sia un'acquisizione del gruppo importante. Vado a chiudere col quarto documento che è stato quello che ci ha portato via più tempo in realtà, perché ovviamente quando si fa critica si è tutti abbastanza bravi, quando si fa proposta diventa difficile convergere. È molto più facile fare una lotta anti qualcosa che una lotta pro qualcosa, cioè è molto più facile unirsi contro qualcuno che è a favore di qualcosa. E allora noi ci abbiamo provato lo stesso, perché il nostro gruppo si è dato nella sua agenda l'anno scorso il programma di cominciare ad abbozzare una visione. Non è evangelo, non è roba in cui crediamo in maniera dogmatica e sono documenti ancora aperti, ma rappresenta uno scorcio di questo nostro gruppo sulla visione di un altro sistema economico. Per questo tipo di tema abbiamo sentito tutti i membri del gruppo economia parlare, cioè abbiamo fatto penso 20-30 incontri dove abbiamo sentito ciascuno di noi raccontarci come vedeva il mondo. Abbiamo voluto veramente ascoltarle tutti, mentre negli altri abbiamo ascoltato solo chi si proponeva, l'esperto o chi aveva qualcosa. Qua abbiamo chiesto di fare un piccolo sforzo a tutti i membri del gruppo di raccontarci qualcosa della sua visione, perché è importante essere uniti anche non solo contro lo stesso nemico, ma anche verso qualcosa di propositivo, che ci unisca, di positivo, di buono, da mostrare. E ci sono dei punti che sono usciti, che mi sembra che siano diventati comuni del gruppo. La necessità di un recupero del linguaggio comune, che c'è stato sottratto dalle tecnoscienze, per il quale tu se non sei uno scienziato e non hai un titolo di un certo tipo non puoi parlare di niente. E invece no, il politico o chi fa politica può parlare di tutto, perché la politica è una questione di scelte, di preferenza, non è una questione di verità oggettiva naturale, è una questione di preferenza. Anche lo stesso discorso del vaccino, anche se funzionasse, anche il discorso del lockdown, se io scelgo politicamente che preferisco rischiare di morire piuttosto che vivere chiuso in casa come una talpa, è una scelta politica, non medica, legittima in quanto politica. E ci si è dimenticati di che cosa è la politica, perché con questo discorso delle tecnoscienze... ci hanno rubato il linguaggio per comunicare, ci hanno tappato la bocca per far parlare solo i tecnocrati, quando la scienza non è mai neutrale, perché la scienza ci dice solo come funzionano le cose, non ci spiega i fini, che quelli deve definire la politica. E anche la necessità di ricostruire una forte identità comune, su base locale, che poi si estenda fino al respiro nazionale, dimenticata anch'essa, perché un popolo senza un'identità comune è un popolo che non lotta coralmente, e se non lotta coralmente, lotta individualmente, e se lotta individualmente perderà, perché chi lotta per sbarcare il lunare e salvare se stesso, non riuscirà a combattere contro nemici organizzati e con tutti i mezzi che noi sappiamo hanno a disposizione. E poi abbiamo definito un altro punto fondamentale, il primato della politica, sull'economia, non è l'economia che deve decidere quali sono le politiche da fare, non è il Fondo Monetario Internazionale, non sono le olie e garchie finanziarie che si riadunano ai club Bilderberg o agli altri club similari, che definiscono le loro politiche, i loro negoziati, e poi i politici si devono adeguare. Ma è la politica che dice queste sono le necessità del pubblico, queste sono le necessità della comunità, l'economia esegua, l'economia deve eseguire, non deve comandare. E questo è il punto, il punto di partenza. L'altro punto, il riconoscimento della natura spirituale. Ci siamo tutti dimenticati, preda da questo materialismo figlio del neoliberismo, che l'uomo non ha solo una natura materiale, ma anche una natura spirituale. E lo spirito ha i suoi bisogni così come il corpo. E quindi una società nuova deve essere una società che garantisca e aiuti tutti a fare un percorso interiore il più possibile sereno e completo. Perché non siamo a questo mondo per consumare merci, ma siamo a questo mondo per diventare forse persone migliori. E allora abbiamo bisogno di un sistema che ci aiuti in questo, che ci dia il tempo libero necessario per sperimentare, che metta al centro l'esistenza, il miglioramento della propria esistenza, non al centro il profitto o l'arricchimento materiale. E poi nuove istituzioni di rappresentanza socio-professionale, superare il parlamentarismo borghese con qualche cosa di innovativo. E qui ci siamo stati d'accordo superare con le rappresentanze socio-professionali che corrispondono a organizzazioni di diversi professionisti, che partecipano nelle loro organizzazioni, che conoscono la loro organizzazione, il loro mestiere, le loro necessità, si radunano in una camera comune per discutere con le altre categorie socio-professionali. Per parlare di uno sviluppo del paese che deve essere comune, e dunque armonico, che tenga conto dentro di tutte le esigenze, di tutte le necessità, di tutte le diverse categorie socio-professionali, perché non ci sono solo i professionisti, ma ci sono anche i pensionati, gli studenti, eccetera. Poi partecipazione diretta dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese. Questo è un altro punto fondamentale, se non si ha partecipazione sul proprio luogo di lavoro si continuerà a essere schiavi dietro i cancelli delle fabbriche andando a votare una volta ogni cinque anni, ammesso che serva a qualcosa. E la partecipazione non deve essere solo la gestione, deve essere anche agli utili, in modo che tutti i lavoratori si sentano responsabilizzati, perché l'azienda non è solo del padrone, ma l'azienda è nostra e se lavoriamo meglio avremo più risultati, se lavoriamo peggio ne avremo meno. Infine un coordinamento sistemico tra tutte le imprese per costituire un programma economico generale che dia futuro, slancio, visione al paese, non lasciati alla merce dei mercati internazionali e dello spread che decidono il nostro futuro senza che nessuno si prenda la briga di programmare qualcosa, di dare un'idea di paese, un'idea di sviluppo autentico, umano, non solo economico. Questi quindi i nostri punti. Abbiamo ancora da lavorare sul quinto, mi sono dilungato, mi dispiace, ma ci eravamo dati davvero tanti compiti e mi serviva un pochino più di tempo. Grazie. 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 Grazie.